C'è la prestazione? Abbiamo quella situazione anche da valutare della Lega, quindi noi non siamo per niente usciti da una situazione di difficoltà, ma credo che queste due gare ci abbiano infuso delle convinzioni, ci hanno alzato il morale e quindi andiamo a giocare in casa di una squadra fortissima a testa alta. A gioca forza dovremmo cambiare qualcosa per forza negli interpreti, cercheremo di mantenere la nostra fisionomia ma sempre valutando delle scalate o dei giocatori che ci permettano una variazione all'interno senza mutare poi con i cambi della panchina l'11 iniziale. Quindi ho questa possibilità di avere giocatori che hanno più qualità, che hanno più caratteristiche e quindi cercheremo di mettere, farò una soluzione del genere. La cosa importante è che effettivamente giocando delle gare così ravvicinate dovremmo sicuramente fare una minima rotazione però non più di 3-4 giocatori, 3 perché poi diventa troppo. Gli equilibri sono talmente fragili in questo momento che non possiamo pensare di ribaltare una squadra. Di sicuro non puoi andare lì e aspettare gli eventi perché l'hai già perso, questo è sicuro. Quindi li conosciamo, sappiamo cosa fanno, cercheremo di fare anche noi le nostre cose, andarle a prenderle, aspettando di rimanere in una zona un po' più bassa. Dobbiamo essere bravi a variare questa tipologia, lo fanno molto bene anche loro, quindi vengono a prenderti, si abbassano, poi ti ripartono. Le transizioni loro sono devastanti perché hanno gamba pazzesca, hanno capacità di poter cambiare gli interpreti davanti in maniera pazzesca, hanno qualche punto debole come tutte le squadre in cui cercheremo di andare a fare partita.